Grazie, grazie. Atleti dalla A alla Z sono gli Under 8 dei Medici ai Rugby, ovvero una delle categorie più giovani, premiate da Villa Donatello, uno dei main sponsor di questa importantissima realtà sportiva fiorentina. Sì, il secondo premio abbiamo consegnato a questi giovani ragazzi, l'altra volta abbiamo fatto l'Under 6, oggi è toccato agli Under 8, premio l'atleta dall'A alla Z, che è un po' il nostro slogan, Villa Donatello è la casa di cura dall'A alla Z, questo invece vuole essere l'atleta dall'A alla Z, che vuole dire un po' che va a premiare non la bravura, anche la bravura, ma più che altro l'essere bravo, serio, preparato, all'allenamento, presente e così via. È un modo diverso per festeggiare lo sport e per festeggiare l'impegno di questi ragazzi. Soddisfatti, il presidente dei Medici ai? Condividiamo tanti valori, abbiamo un importante programma da fare insieme, che ci coinvolge nella prevenzione, nella lotta dei mali che possono venire giocando e non giocando, e diciamo che lo sport è un veicolo importante per questi argomenti. In questa giornata importante di sport è un piacere accogliere Villa Donatello con noi e premiare questi ragazzi per il bel lavoro che stanno facendo. Mi dice i vittoriosi in questo turno settimanale.